eccoci qua eccoci qua ragazzi eccoci qua ragazzi un video doveroso su tutto quello che è successo nell'arco di 24 48 ore è successo di tutto di più nata e morta prima ancora di cominciare questa superliga europea ovviamente io che ci ho messo la faccia e che ho detto la mia ho preso una posizione piuttosto che starmene lì al centro ad aspettare quello che davvero stesse succedendo chiaramente in questo momento qua devo dire la mia su quello che è successo su quello che avevo pensato potesse succedere cosa che invece non è successa perché è andato esattamente al contrario nel senso che la superliga sappiamo tutti ormai è praticamente crollata il castello è crollato e adesso andremo anche a spiegare i vari motivi e per come è potuta succedere una cosa così velocemente prima di tutto ragazzi sono ancora convinto della bontà di quel progetto per quanto riguarda chiaramente i club che ne facevano parte ho sempre detto che era una cosa che andava assolutamente contro i principi dello sport l'ho detto andatevi a vedere i vostri video i miei video gli ultimi due video che ho fatti però ho sempre che ho fatto ho sempre detto che in questo momento qua era questa una situazione che poteva finalmente dare quello che i club meritano piuttosto che quello che vengono adesso racimolano adesso ogni volta quando ti deve andare bene riesce a prendere qualcosa facendo la Champions League arrivando in fondo alla Champions League altrimenti un club che investe fior fior di quattrini e si trova magari a sbagliare una stagione perché il calcio non è una scienza esatta perché il calcio è fatto di episodi perché il calcio è fatto di tanti fattori esterni quindi magari una stagione ti va storta per un motivo x e tu che hai investito centinaia di milioni magari sul mercato su un'infrastruttura su questo e su quest'altro hai praticamente un grosso problema perché adesso le aziende vanno viste anche le aziende scusate le squadre vanno viste nell'ottica di aziende a 360 gradi che piaccia o non piaccia detto questo ragazzi voglio subito entrare nel nella diciamo nel vero problema nella questione perché sento leggo da da varie parti qualcuno magari si fa anche bello si fa anche grande perché magari ha lottato ha sperato che andasse in questa maniera che adesso questa è la vittoria del del bene contro il male questa è la vittoria dello sport questa è la vittoria dei principi questa è la vittoria dei dei deboli e dei poveri sui ricchi ok tutto questo discorso qua questa cosa qui toglietevela subito dalla testa perché quello che abbiamo visto in queste 24 48 ore è proprio l'emblema di quando il potente vince sempre perché abbiamo visto una un'organizzazione quella dell'uefa che è riuscita a smontare pezzo pezzo tutto quello che si era creato in un bel po di tempo perché non è che uno da un giorno all'altro fa una cosa del genere trova uno chiamiamolo sponsor così importante come jp morgan a finanziare tutto questo discorso qua ci vuole lavoro ci vuole tempo ci vuole una serie di cose che sono state pensate hanno smontato il tutto in un batter d'occhio quindi che cosa significa questo che evidentemente avranno i loro buoni come dire i loro buoni modi di riuscire a far cambiare idea alla gente perché ragazzi abbiamo visto qualcosa di veramente incredibile io penso che l'errore più grande di questa superlega sia stata la tempistica come sono usciti perché secondo me la cosa andava fatta a bocce ferme a campionati finiti a stagione finita allora tu li esci con questa notizia qua perché tu in questo momento tu in questo momento non mi puoi non mi puoi far far uscire una notizia così importante che va a stravolgere il mondo del calcio quando stiamo con i campionati che vanno ancora terminati con la champions league che tra qualche giorno si giocherà una semifinale due semifinali e poi sappiamo bene e questo è il fulcro del discorso che ci sono tre squadre che fanno parte di questa superlega che avrebbero fatto parte di questa superlega europea che ovviamente non non stanno devono affrontare delle semifinali di champions league e quindi che significa che l'uefa ha la possibilità davvero di non far telegiocare queste semifinali perché quello l'uefa lo può fare essendo una sua competizione la champions league può dire senti bello tu la champions league non la fai la semifinale di champions league non la fai perché tu mi stai venendo contro in questo e quest'altro e quindi tu mi squalifichi mi fai questo discorso qua e quelli ovviamente a qualche giorno da un appuntamento storico per questi club che facciamo che facciamo e quindi è stato molto semplice creare questo tipo di pressione mediatica sui club come celsi e city che non a caso sono stati i primi ad uscirsene e poi l'uefa sapeva benissimo che doveva puntare soprattutto sui sui club inglesi perché essendo sei club su 12 è chiaro che se vengono a mancare quei sei club crolla tutto il castello non è che puoi fare una super lega con sei club quindi di che cosa vogliamo parlare hanno fatto pressione e non so in che modo e non so in che modo sui club del della della premier league e quindi questo è quello che è successo che poi si è sfilato il liverpool si è sfilato lo united si è il resto diciamo è tutto ovviamente andato in questa maniera qua perché poi ragazzi va sottolineato una cosa molto importante e cioè che qua tutti quanti sono hanno fatto passare questa super lega un'organizzazione criminale un qualcosa che non esiste di qua e di là invece abbiamo visto che a livello legale a livello regolamentare si è espresso anche un tribunale e non il sottoscritto dicendo si è espresso anche l'antitrust dicendo che questi club se un domani vogliono unirsi 10 15 20 club e fare una lega tutta l'ora e ce lo possono fare non c'è niente di criminale non c'è niente di che va contro il regolamento perché questa è una cosa che si può fare ok si può fare che piaccia o non piaccia mi direte ma questo è il calcio dei ricchi che va avanti i poveri saranno sempre più poveri i ricchi saranno sempre più ricchi si è sempre stato così è questo il problema che non non volete capire con la champions league i ricchi sono diventati più ricchi e chi non la fa la champions league è sempre più povero gli abbiamo viste le cose il gap che si è creato tra i vari club che la fanno sempre la champions e quelli che non la fanno è clamoroso perché c'è stato un errore di fondo sulla base di tutti questi problemi qua si è toppato a 360 gradi con il fair play finanziario eccetera eccetera quindi per piacere per piacere ve lo chiedo per piacere non facciamo passare una potenza come l'uefa come ripeto per l'ennesima volta gli angeli del paradiso contro i demoni ok dell'inferno perché non è così che è andata è esattamente il contrario è esattamente il contrario qui non è lo sport che vince il romanticismo non è questo ragazzi questo è proprio il contrario quelli che erano forti sono talmente forti che hanno smontato un castello in un niente avranno avuto i loro buoni metodi ok questo è il discorso è successo questo che quindi ragazzi alla fine è normale che poi tutto quello che è successo con gli altri club italiani spagnoli eccetera è solamente una conseguenza di questo di quello che è successo eccetera ma io sono resto del parere resto del parere che questa è una cosa che prima o poi si farà che prima o poi si farà perché ripeto è una cosa legale e se questi club avranno la possibilità di mettere mani davvero su questi soldi ma non solamente su questi soldi visti semplicemente come soldi da spendere per acquistare questo o quel giocatore ma è tutto il sistema che ne che si ingrandisce sono poi gli sponsor che ovviamente si avvicinano e farebbero veramente la guerra per accaparrarsi una sponsorship contro con con dei club che sono che hanno questa visibilità così importante nel mondo si può lavorare si può investire sulle infrastrutture fatte in maniera come si deve si può investire sul commerciale si può investire sul calcio femminile sui sulle giovanili nello scouting è una cosa che va vista 360 gradi non è una cosa vista come dove io prendo 300 milioni vado a un bappè dico questi sono 200 milioni vai mi compro un bappè non è visto non è solamente questo il discorso quindi ragazzi poi ognuno sarà libero di pensarla come vuole ovviamente ovviamente però e faccio adesso dico una dico un però non venitemi questi che adesso sono tutti contenti e ce ne sono di persone tutte contente che adesso questa cosa è andata è andata a farsi fottere eccetera eccetera il calcio resta il calcio questo è questa tutti questi ragionamenti poi non venitevi a lamentare col sottoscritto quando che cosa andiamo facendo con castiglieco ma dove vogliamo andare con calulù ma dove vogliamo andare con questo con meite con questo e quest'altro con dalotto ma voi di qua ma voi di là ok ok perché poi se noi non possiamo fare mercato a certi livelli perché abbiamo 195 milioni di passivo di bilancio 195 milioni di passivo di bilancio non venitemi poi a dire oh ma noi non prendiamo niente sul mercato ma è uno schifo ma quello lì che sta dicendo gazitis ma si dimettesse ma quello maldini che cos'è andato a prendere lo scarto dello scarto delle squadre retrocess perché questi ragionamenti qua io già lo so che me li farete già lo so che me li farete quindi la prossima volta quando noi abbiamo abbiamo visto un treno passare che con uno schiocco di dita ti cambiava la vita da così a così ok e finalmente avremmo potuto fare anche noi sederci anche noi con i più grandi finalmente perché non lo facciamo da tempo anche se noi lo siamo sempre stati fra i più grandi ma in questo momento qua economicamente parlando avremmo avuto modo iniziare di iniziare di nuovo a poter confrontarsi veramente io ci so io e ci si teo allo stesso livello proprio perché a differenza di ora alcuni club che che alcuni club prendono i soldi e li sperperano come e cazzo gli pare perché nessuno gli dice niente alcuni club invece gli si viene detto guarda che c'è il fair play finanziario tu non puoi spendere né questo né questo né questo e io addirittura ti mando fuori dell'europa league perché tu c'hai questo passivo di bilancio quindi in questa maniera qua in questo tipo di lega avremmo avuto tutti le stesse identiche possibilità di investire questo è il discorso è come se tu vai a fare una gara di formula 1 con 10 piloti che hanno tutti la stessa identica macchina e là si vede chi è il migliore a guidare avremmo avuto tutti e 10 la stessa identica macchina cosa che invece adesso non succederà perché continuerà ad esserci il pari san germain il manchester city il real madrid del barcellona che fanno quello che vogliono mentre noi che siamo i poveri cristi che veniamo sempre visti male dall'uefa dobbiamo fare il mercato con quello che abbiamo perché abbiamo il passivo di bilancio perché c'è il fair play finanziario quindi è questo il discorso che volete capire e adesso sto parlando soprattutto ai milanisti che avesse considerato caslamando sempre volevo capire come fate a dire che quella situazione lì non era una cosa positiva semplicemente è questo poi non mi venite a fare discorsi del tipo il calcio di qua a 360 gradi noi abbiamo vissuto di qua questa era un'accusa che riguardava l'elite dell'elite proprio il top del calcio tutti i resti dei campionati di serie c di serie b e tutto il resto erano sempre identici e anche la lotta per la salvezza in serie a era la stessa la lotta per l'europa league era la stessa cambiava qualcosa proprio nei primissimi posti perché è chiaro che lì queste squadre avrebbero avuto la possibilità di mettere mani a soldi che magari un'altra squadra che lotta per la champions non riesce questo sì questo sì l'ho detto sempre l'ho detto dall'inizio quindi questo è il discorso ragazzi oggi andiamo a giocare una partita fondamentale una partita fondamentale però ovviamente tutti questi ragionamenti qua ce l'hanno fatta quasi dimenticare sta partita quindi questo deve essere il nostro cruccio ovviamente questi giorni non si poteva parlare d'altro e quindi andavano fatto questi tipi di video perché è chiaro che se sta cambiando il mondo del calcio cosa mi metto a parlare di di questo di quest'altro devo parlare di questo di questo ragionamento qua ragazzi ci vediamo oggi per il video post partita speriamo bene abbiamo le nostre assenze importantissime oggi mancherà benasser mancherà ibraimovici di nuovo mancheranno teo non so questi quando si fanno male non lo so quando si fanno male certo è che questi mancheranno cialanoclu invece dovrebbe essere convocato ritorna calabria a disposizione dovrebbe già giocare titolare oggi probabilmente ragazzi ci vediamo come vi ho detto io vi saluto forza lotte vincerà non ti lasceremo mai ciao a tutti